E' iniziata martedì e durerà per i prossimi due giorni l'attività di controlli che il nucleo subacquee della Guardia Costiera, con base operativa nella direzione marittima di Cagliari, effettuerà nella nuova banchina di soprafluto del porto di Alghero. Questa nuova azione è a margine delle operazioni effettuate in zona nei primi due mesi del 2009 da parte del motopontone Mario I, con cui sono stati ultimati i lavori di escavo della secca delle murge e di banchinamento del nuovo molo sud del porto. Le operazioni che comportano l'impiego di tutta una serie di apparecchiature sofisticate per il posizionamento e per le riprese subacquee di cui il nucleo è dotato, sono primariamente tese alla verifica che lo stato dei fondali corrisponda a quanto previsto dal progetto dell'opera.